iniziamo in questa seconda parte ragazzi continuiamo il percorso che abbiamo iniziato l'altra volta quindi vi prego vi rivediamo velocemente quello che abbiamo visto e poi da lì continuiamo così capiamo anche se ci sono stati problemi se avete avuto delle difficoltà qualcuni di voi già ho notato di sì innanzitutto vi chiedo i tre macro gruppi ho visto San Lorenzo ho visto Castro Pretorio con tutti i problemi che ci ha avuto mentre manca no non ho visto San Lorenzo perdonatemi che ho visto io Alex di dov'è Francesco e San Lorenzo e quindi mi manca Porta del Popolo giusto? ah sei tu Porta del Popolo ok fatemi capire non questo non è vincolante che livello state? che problema avete avuto? il DEM ha un passo però diciamo manuale ok poi niente andiamo chiedendo gli strumenti per fare quello che hai messo nei miei oggetti insomma ragazzi o te la hai benissimo il terreno per manca bene va bene va bene allora vedremo poi in seguito il discorso invece per quanto riguarda la grandezza del progetto siete riusciti tutti quanti a fare il dimensionamento della griglia piuttosto che del passo della griglia non avete avuto problemi diciamo così tutto chiaro ecco quella la dobbiamo correggere perché probabilmente non funzionerà una volta fatto il modello importato in qualche modo lo riverifichiamo e valutiamo cosa c'è da cambiare eventualmente allora abbiamo visto l'altra volta velocemente che prendo una spaces avevamo potuto capire come era possibile inserire un DEM la vegetazione i building non abbiamo visto i single wall abbiamo visto anche passando nella visualizzazione completamente 3D non avevamo visto il soil and surface questi sono gli unici materiali che vi ho richiesto per il macro gruppo sono già differenziati li troviamo già una lista abbastanza fornita qui lateralmente quindi potete usare già solo questa dove troviamo elementi come l'asfalto piuttosto che il cemento il pavimento a base cementizia e altro vi chiedevo dopo aver fatto diciamo la costruzione geometrica di ricalcare quelli che sono effettivamente i materiali velocemente i materiali che incontrate nella vostra zona quindi i più comuni potranno essere sicuramente l'asfalto per le strade piuttosto che pavimentazioni cementate piuttosto che pietra laddove per esempio a piazza del popolo io non mi ricordo a piazza del popolo come è pavimentata in questo momento non mi sono san pietrini ecco questi qui per esempio potrebbero essere ritrovati nel o nel granite paviment no 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 questi sono staccati tra virgolette dal dam è come fosse un layer separato che vi chiede per esempio faccio un dam velocemente accendo anche qui per farvi vedere cosa sto facendo cosa sto premendo sulla tastiera allora facciamo un dam qua qualunque questo solo è in surface vedi si scorda di come è fatto il dam è come se riappiccicasse tutto dall'alto lo riproiettasse quindi sulla surface del dam piuttosto che qualunque cosa incontra quindi il nostro dam in questa parte qui dove ho scritto pl sarà cioè appunto dove c'è il dam è pl dove non c'è il dam su altre surface che dovete considerare che non che non c'è il dam è che il dam vale 0 da quelle altre parti e quindi avrà però una caratterizzazione di LO piuttosto che di AR, di GG e così via le plant ho notato Francesco del gruppo di San Lorenzo ha inserito delle simple plant vanno benissimo a questo livello di dettaglio va benissimo successivamente quando dovremmo entrare magari nello specifico nelle aree di ognuno di voi magari possiamo caratterizzarlo con delle piante 3D in questo momento ci accontentiamo vi dico questo solo perché ve l'avevo scritto in quella sorta di vade vacuum che vi chiedevo l'altra volta però non ce l'eravamo effettivamente detti a lezione proseguiamo andando a vedere una volta definito tutto quanto il modello come è possibile farlo partire adesso io che faccio? mi faccio velocemente un modello 3D mi disegno qualcosa di finto ovviamente mi ritaglio tutto quanto con cattarea qualcosa di palesemente finto facciamo, diamo per buona qualunque impostazione presente in questi pannelli andiamo a costruire magari dei building ok, un dem già c'era un building l'abbiamo appena fatto salviamo il tutto dove andiamo? ci siamo scordati di caricare Roma salviamo a questo punto dove salviamo? nella cartella di Roma siccome non mi ci va direttamente ci devo arrivare a mano quindi da questo PC disco C EnvyMet Project Roma test EnvyMet ci risalvo sopra e do l'ok a questo punto posso chiudere diciamo che ho definito tutto quello che serviva all'interno del modello Spaces chiudo se ne avevo aperti un paio e ritorno sul quartier generale di EnvyMet lo faccio partire sempre come amministratore e vado a configurare il configuration wizard scusate il gioco di parole che cos'è il configuration wizard? è quel programma che mi permette di inserire le condizioni a contorno del mio modello sa significare posso inserire diciamo le condizioni climatiche piuttosto che opzioni per il calcolo come ad esempio quanto durerà il calcolo nel senso quante ore verranno calcolate poi ovviamente il calcolo la lunghezza fisica del calcolo dipende dalla macchina su cui gira e da un milione e mezzo di altri fattori come prima cosa mi chiede ancora una volta il progetto non è Ancona dobbiamo trovare Roma trovato Roma mi chiede se io ho già effettuato un calcolo oppure ne voglio fare uno nuovo questa è una condizione che si presenta laddove voi avete fatto lo scenario invernale l'avete calcolato finito lo scenario invernale volete fare lo scenario estivo che ovviamente ha delle temperature e delle umidità diverse quindi potete riprendere il file appunto sim che è quello che appunto è generato da questo tool e modificarlo solo nelle parti che vanno a variare quindi non c'è bisogno di ricreare tutto da capo in questo caso non ne abbiamo mai fatto uno ne facciamo uno nuovo nel fare un file nuovo la prima cosa che ci chiede mi vai a dire dove sta il tuo file il tuo file INX che io farò girare select file se io ho impostato bene Roma me lo ritrovo subito la cartella aperta col test EnvyMet che ho appena salvato qualche secondo per l'aggiornamento lui mi crea praticamente un'immagine bitmap che rappresenta e mi fa capire da subito se il file giusto o no può essere può essere utile e questa cosa mi fa capire da subito il fatto che sia collegato il file INX collegato al file .sim che andremo a salvare successivamente sono due file distinti ma collegati questa cosa è molto importante perché laddove voi vi ritrovate con lo stesso modello perché sia d'estate che d'inverno il vostro stato di fatto piuttosto che lo stato di progetto non cambia quello che cambia appunto abbiamo detto sono le condizioni a contorno significa che non dovete creare due file INX ne basterà uno solo ma con due file .sim file per la simulazione un'altra cosa utile potrebbe essere io modificare devo modificare il mio stato di progetto perché ho fatto un errore o è modificato il progetto per qualunque altro motivo che non devo rifare tutto quanto da capo questa procedura della configurazione no basta che io lo risalvo nella stessa posizione e faccio ripartire il sim a cui so che era collegato quello stesso file INX questa cosa adesso sembra più sembra un po' macchinosa me ne rendo conto però vi renderete conto di quanto è semplice strada facendo perché appunto vi permette di semplificarvi la vita modificando gli INX e trovarvi a cascata tutto il resto del lavoro fatto adesso andando avanti possiamo impostare lateralmente abbiamo il menu che è un percorso dall'alto verso il basso da seguire possiamo impostare il nome della simulazione piuttosto che il nome dei file lo gestiamo così in questo caso nome simulazione e qui possiamo dire faccio la simulazione in inverno faccio la simulazione in estate lo descriviamo qua così non ci non ci confondiamo theme and data output allora qui la prima considerazione quando va fatto questa analisi nel giorno rappresentativo quello di cui quindi abbiamo trovato i 24 valori sia per l'umidità come vi scrivevo sia per la temperatura in più è il giorno di cui sappiamo all'ora dell'inizializzazione il valore del vento e qual è l'ora di inizializzazione qualcuno si ricorda dalle reminescenze della prof dalle indicazioni le 6 ma perché soprattutto le 6 perché l'alba esatto quando sorge il sole evidentemente in Germania il sole sorge alle 7 io non lo so non ci sono mai stato in Germania da noi sorge alle 6 il tempo di simulazione allora qui ovviamente io vi consiglio 24 ore perché vi consiglio 24 ore perché 24 ore vi danno nel bene o nel male una caratterizzazione completa della giornata ma se il vostro progetto non si vive di notte a mezzanotte non c'è nessuno nel vostro progetto piuttosto che alle 3 di mattina o anche alle 6 di mattina perché con 24 ore in realtà arriviamo alle 6 del 24 6 per esempio in questo caso ha senso fare 24 ore? no soprattutto se ho una macchina poco potente ha senso però arrivare almeno a scavalcare diciamo le ore più calde perché sicuramente il vostro progetto vivrà in quelle ore ha senso arrivare fino a sera magari fino a ora di cena prevediamo che nel vostro progetto per esempio una piazza è abitata fino a le 10 di sera quindi possiamo dare un range minore di ore per avvantaggiarci a livello di calcolo non scendiamo mai sotto le 18 ore vi dico io perché 6-18 6-12-18 quanto fa 18 ore più 6 vabbè insomma a 18 ore dovremmo arrivare alle 10 di sera se non se avevo fatto bene i conti prima altrimenti rifate i conti perdonatemi in questo momento ho dormito poco anch'io diamo per buono per ora 24 ore tanto non lo staremmo ad aspettare nella fase successiva andiamo a impostare quant'era il valore del vento qualcuno metterebbe a volte ha messo il valore medio del vento però qui sono i dati di inizializzazione meteorologica le condizioni di inizializzazione significa voglio sapere quando era il vento alle 6 di mattina o piuttosto a un altro orario se ne ho necessità quindi che faccio vado a rivedere i dati del vento vado a vedere che nel in quelle tabelle il mio il mio valore del vento è di 2,5 benissimo 2,5 può succedere che vi ritrovate una condizione di bonaccia dove avete il vento inferiore a un metro al secondo questa è una condizione purtroppo quella di scarsa ventilazione che può produrre degli errori all'interno di Envimet che vi ricordo queste qui sono diciamo simulazioni che derivano da una semplificazione del tutto questa semplificazione con valori bassi del vento può produrre ad errori può indurre il programma a produrre degli errori che si trasformeranno nell'impossibilità di lettura dei dati nell'impossibilità di completare il calcolo in un'infinità quindi di situazioni sgradevoli comunque una cosa il vento non è in nodi come abbiamo visto per il sito di Roma il vento è in metri al secondo come faccio a trasformare i nodi in metri al secondo nessuno se lo ricorda nessuno è marinaio di voi no ok va bene non vi preoccupate neanch'io sono marinaio per fortuna però c'è Google che succede se a Google gli diciamo 2.5 oppure non so quanti erano i valori che trovavate su quel 2 4 mi pare ma io inserisco 4 nodi in metri al secondo Google sesso ci dice che 4 nodi equivalgono a 2.05 metri al secondo ok quindi laddove vi trovate in difficoltà per questo qua chiedete a Google un'altra cosa importante ecco la direzione del vento in Deg cioè in gradi sessadecimali scusate se è complicato da dire che cosa sono i gradi sessadecimali sono gradi che vanno 0 90 180 270 e 360 ricordatevi il nord è zero c'è un'informazione qua di lato mentre il sud è 180 qui una cosa che non ho ben chiaro ma est e ovest cioè giriamo in senso orario o in senso antiorario dovrebbe essere sì in realtà è così però sinceramente non è che una di quelle cose che ci escono così naturali c'è nell'help una spiegazione se non erro giriamo comunque come vi dicevo io in senso orario come anche voi diciamo per natura avreste fatto ma lo andremo a verificare perché sinceramente non me lo ricordo l'help lo troviamo ve lo ricordo sul sul sito del produttore nella pagina dell'help per il 3.11 ma non è cambiato molto a questo livello non andremo a modificare vabbè in questo caso tengo 90 ma benissimo diciamo che viene da est quindi 90 secondo quello che abbiamo appena detto però poi vi prego di verificarla insieme a me questa cosa successivamente nel caso ci smentiamo tutti insieme non andiamo a toccare il valore dell'initial temperature of atmospheric in gradi centigradi e qui una piccola una piccola postilla l'unità di misura gradi centigradi non gradi kelvin qualcuno nelle precedenti versioni per esempio in quella beta magari ricorda non so se l'avete soprattutto chi già l'ha usato Envymet Francesco faccio riferimento a te perdonami all'epoca usavate la versione beta di Envymet ecco hai fatto attenzione a questa cosa nella versione beta i diciamo le temperature erano espresse in kelvin adesso in gradi centigradi ok faccio attenzione a questa cosa importante ovviamente tra gradi kelvin centigradi sono 271 gradi non è molto però ci dovete fare attenzione andiamo nel diciamo nella parte successiva e incontriamo un diciamo una tabellina simile excel simile foglio di calcolo dove poter impostare i nostri valori avete raccimulato i valori giusti per il vostro giorno rappresentativo se si è bene se no fatelo perché altrimenti questa parte non può essere completa per inserire i valori io vado su force temperature e humidity e vado a inserire uno per uno i miei valori qua con un bel po' di pazienza 23 12 io vado casual in questo caso voi dovrete inserire dei valori reali presi dal dal giorno rappresentativo ora il vostro giorno rappresentativo è sull'umidità o sul o sulla temperatura per esempio temperatura quindi domanda tra bocchetto ma a cui spero mi sappiate rispondere senza battere ciglio quali sono i valori dell'umidità che dovrò andare a inserire provaci in tutte le lingue va bene sì perfetto esatto praticamente sì quindi non il giorno rappresentativo un altro giorno rappresentativo ma lo stesso giorno perfetto scusami se è doverosa la domanda perché qui si casca facilmente in errore e poi rischiamo di dover fare un'altra settimana di calcolo dimmi Francesco hai messo giorni diversi e tu quindi quali valori hai messo perdonami eh ma qui qui sopra che valore hai messo proprio fisicamente alla T hai messo i valori del dimmi quale giorno eh eh no così hai fatto un Frankenstein hai costruito un Frankenstein eh ma se tu mi fai due analisi diverse è un conto cambia la direzione del vento però ascoltami vuol dire che a questo punto per te la rappresentatività del dato la rappresentatività è basata sul vento non più sulla temperatura quindi dovrai prendere il giorno rappresentativo del vento mi dici tu e continuare i calcoli con tutti i dati di quel giorno cioè scordandoti però degli altri giorni così è fatto allora così facendo escono una moltitudine di simulazioni benvenga almeno che tu non abbia però necessità di troncare per motivi di tempo usane anche una sola ok ah ok dici abbiamo sfruttiamo la forza lavoro va benissimo apprezziamo lo sforzo apprezziamo lo sforzo anche perché questo ci dà modo di fare diciamo un po' è un confronto magari è vincolato ovviamente alla zona di San Lorenzo però è un confronto utile per capire come cambiano le situazioni a seconda delle casistiche prese in considerazione ti ringraziamo una volta inseriti tutti i valori sia dell'umidità quindi e della temperatura che è espressa in percentuale 55% 63% 67% e così via non devo dimenticarmi di cliccare qui su queste due freccette per aggiornare il grafico queste due freccette io ho notato non servono solo per aggiornare il grafico in realtà se non ci clicchiamo non vengono proprio salvati questi dati quindi alla chiusura e riapertura del file non li ritroviamo e siamo costretti a reinserirli di nuovo quindi fate attenzione a cliccare su queste due freccettine blu ignoriamo totalmente la parte di sotto della temperatura minima e massima nei 8 ore perché questa qui è una caratterizzazione utile quando non abbiamo a disposizione i dati nell'arco delle 24 ore quindi non è il caso nostro andiamo avanti possiamo saltare a piedi pari le informazioni in questa diciamo in questa fase perché sarebbero belle da aggiungere le informazioni della radiazione solare piuttosto che della situazione del manto nuvoloso però spesso e volentieri non le abbiamo e noi abboniamo diciamo i valori standard in modo tale anche da semplificarci la vita andiamo sul model timing qui vi faccio solo una considerazione dalla versione 4 in poi diciamo così è stato valutato un inserimento di valori che rendono un po' più lento il calcolo cioè abbiamo 2 2 1 per valori in gradazioni del sole di 40 e 50 gradi questo che significa vi faccio velocemente semplicemente una spiegazione avete presente com'è il sun pat del sole cioè il sole nell'emisfero boreale nasce a est sale verso mezzogiorno diciamo che lo abbiamo a picco a mezzogiorno e scende a ovest la sera ecco per altitudini diverse variabili del sole quindi fin quando il sole è basso diciamo così lui utilizza un time step di 2 secondi questo per velocizzare diciamo il calcolo quando il sole quando la radiazione solare non incide molto sull'incremento di temperatura del flusso che abbiamo questo appunto per semplificare la vita a noi e velocizzare il calcolo e diventa di un secondo quando invece la temperatura diventa diciamo consistente e fa variare parecchio il il flusso il diciamo il gradiente all'interno dei flussi e quindi come 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 questo si sposta all'interno del nostro modello nelle versioni precedenti nella 3.1 3.11 come era il time stepping era raddoppiato andiamo a vedere possiamo andare a controllare dentro sempre dentro il vecchio help io ho notato una cosa non ci sono sensibili variazioni almeno in termini di UTCI ho fatto questo test una volta tra il time stepping nuovo e quello vecchio ci sono variazioni considerevoli che ci fanno capire proprio che il dato viene completamente completamente modificato e completamente aberrato a variazioni maggiori di quello addirittura presentato nella scorsa versione di EnviNet se volete possiamo agire quindi per velocizzare il calcolo su questi tre termini ma senza sforare i dati i dati forniti diciamo consigliati nella versione 3.11 altrimenti comunque lasciate questo dato e sta benissimo così ignoriamo anche questo queste due queste due schede dove in realtà in Pollutant Dispersion possiamo andare a inserire dei dati che mi piacerebbe che qualcuno di voi diciamo sperimentasse sono dati riferiti agli inquinanti cioè davvero dire una cosa gli inquinanti in questo modello che ho fatto io e che avete anche fatto voi non sono in realtà presenti perché non ci sono delle source dei produttori di inquinamento quindi è bene valutare come inserire all'interno di Spaces delle fonti inquinanti che possono essere le macchine piuttosto che una fabbrica o non ho idea di quali altri fonti possano essere vi prego qualcuno che ha voglia di sperimentare è libero di farlo solo che anch'io non ho esperienza in questo quindi nel caso qualcuno esprima desiderio di farlo lo scopriamo insieme perché è un aspetto interessante della ricerca che io personalmente non ho ancora mai toccato expert setting tralasciamo andiamo a finire e save se io faccio save lui fa creare un file che si chiama direttamente new simulation e lo va a mettere all'interno della cartella Roma e quindi all'interno di mvmet project vediamo se è andato a buon fine mi ritrovo questo file save mvmet project Roma scusa questo file sim eccolo qua si chiama new simulation viceversa se non dovessimo trovarlo usiamo il save us il gioco è fatto usciamo semplicemente con exit e a questo punto abbiamo due file new simulation punto sim e il test and vmet che avevamo visto in precedenza entrambi devono essere nella cartella del nostro progetto perché a questo punto possiamo far partire le analisi allora facciamo ripartire sempre il quartier generale da qui carichiamo spaces spaces nella versione che più ci interessa a seconda dei calcoli che abbiamo fatto della griglia è valutato anche che rifacciamo partire spaces velocemente è valutato anche il corretto funzionamento di spaces tramite il modello inspector ecco in questo caso non mi funzionerà perché c'è sufficiente spazio sommitale diciamo ma non c'è abbastanza spazio lateralmente voi mi dite in che senso non c'è abbastanza spazio lateralmente ecco probabilmente non sono stati inseriti i valori di nesting di cui parlavamo l'altra volta visto visto che questo è il caso perfetto per modifica del file nx senza dover rifare tutta la procedura che abbiamo appena visto la facciamo questa cosa quindi andando a modificare carichiamo Roma carichiamo il cioè scusate modifichiamo le impostazioni con un nesting diciamo di 5 applichiamo andiamo a rivedere il modell inspector se questa volta va un po' meglio 5 è ancora un po' pochino diamo di nesting 6 no scusate 5 diamo di nesting 6 applichiamo andiamo a rivedere il modell inspector perfetto dovrebbe funzionare verde verde salviamo semplicemente e chiudiamo spaces per per il discorso che dicevamo appunto della concatenazione dei file non c'è bisogno che ricominciamo dal capo andiamo su envymet e decidiamo su quale delle tre griglie far girare il nostro modello che ovviamente è pensato per una di queste già a monte la mia è piccolina quindi immagino che già la 100-140 sia sufficiente per far partire il modello quindi clicco semplicemente su questa si capricherà una nuova finestra dove ancora una volta devo caricare il progetto farà un po' di calcoletti lui mi chiederà di caricare la simulazione ovvero il file punto sim avendo impostato ovviamente il progetto lui subito punta la cartella giusta il mio progetto si chiama new simulation lui fa ci chiederà da subito se possiamo vogliamo fare un check facendo un check lui va a verificare la possibilità di far partire o meno il programma e eventualmente mi restituisce degli errori diamogli qualche istante di tempo ok è andata a buon fine check done vediamo in basso è una buona notizia potremmo non essere così fortunati potremmo dover ridover modificare qualcosa all'occorrenza ve lo vedremo strada facendo quindi vi prego tu già ce l'hai avuti questi bravo bravo ottima osservazione sì quando vi dicevo il modello spaces deve essere studiato per entrare in queste tre griglie in realtà dovrebbe essere studiato per starci dentro abbondantemente direi le tre griglie quindi datevi anche uno spazietto di vuoto che non si sa mai può sempre tornare utile uno spazietto di vuoto vabbè comunque sia al proporsi di un errore del genere non vi preoccupate non dobbiamo ricominciare da capo ma le che va dobbiamo tagliuzzarlo il cancellando che so un quadratino laddove serve niente di pauroso finito il check se tutto è andato a buon fine faccio partire il run in questo caso non lo faccio partire il run non farà altro che far ripartire di nuovo il check e poi far partire di conseguenza il calcolo una cosa negli scorsi anni la professoressa dava sempre un consiglio che io non ho sentito dalla professoressa questa volta però siccome vengo da diciamo da scuola con ciclifoni vi rimando a voi una volta era utile far fare il calcolo anche solo per un'ora cioè invece di le 24 ore all'interno del file di configurazione impostavamo un'ora sola lo facevamo andare se tutto andava a buon fine allora avremmo potuto impostare quello la simulazione per 24 ore credetemi potrebbe sembrare una perdita di tempo ma è successo più e più volte che il calcolo è partito e dopo magicamente non andava più avanti probabilmente anche perché si creavano delle cosiddette turbolenze all'interno del modello che non sono prevedibili neanche in fase di checking quindi anche se il programma mi restituisce un check done io sono felicissimo di continuare ma verrò tristemente interrotto durante il calcolo che non è una cosa bella fare quindi un'ora di calcolo diciamo preventivo potrebbe salvarvi la vita in futuro una volta che tutto il calcolo sarà finito io mi ritroverò i risultati dentro una cartella chiamata esattamente come il mio file sim con l'estensione però punto output all'interno di questa ci saranno una serie di cartelle sconfinate che però impariamo a conoscere quando appunto andremo a rileggere i dati ora io non ho simulazioni già fatte sul mio computer perché non uso il mio computer per questo ma uso quell'altro nostro dell'università che è leggermente più prestante del mio quindi vi faccio vedere vado su scusate su teamviewer ci connettiamo con il piano di sopra e sfruttiamo quindi la connessione che abbiamo a disposizione chiudiamo EnvyMet qui che si sovrappone togliamo un po' di finestrelle e vediamo un po' vediamo un po' i risultati che possiamo avere allora ricominciamo da capo per vedere i risultati di cui vogliamo di cui vogliamo fare un'analisi dobbiamo sfruttare Leonardo Leonardo in versione 2014 ma in realtà è aggiornatissimo è un programma bellissimo veramente fatto bene ok questo su youtube non ci andrà per fortuna mia è un un programma che ha delle grandi limitazioni la prima limitazione è che non è pensato per schermi a 720p quindi tutti i possessori di schermi 720p quindi con risoluzione che ne so 1366x768 ecco soffriranno di un grave problema dovranno spostare di continuo le finestre per vedere il contenuto nella parte bassa delle finestre vabbè fa niente diciamo che essenzialmente questo questo problema in qualche modo lo risolviamo detto ciò andiamo a vedere come importare un file calcolato all'interno di handymat allora appunto perché io non posso vedere cosa c'è sotto questa finestra mi devo trasportare la barra laterale diciamo così la data navigator il data navigator me lo devo trasportare fuori in modo tale da visualizzare il suo contenuto nella parte bassa che è il select file ci clicco sopra ecco in questo caso il 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 calcolo di cui dispongo io nel computer che sta lassù non è chiamato Roma ma è Ascoli e vado a vedere che ho buttato via tutte quelle cartelle mi sono tenuto solo quelle che davvero mi interessavano che sono quelle legate all'atmosphere nell'atmosphere troviamo temperatura dell'aria che è che è scomparso tutto che bello oppe la miseria scusate un attimo incidenti di percorso andiamo a vedere nel non qua scusate che qui sto sul mio computer ma qui andiamo a vedere cosa c'è in atmosphere eeeh Endymet Project Ascoli atmosphere eh no c'è tutto forse mi sto sbagliando allora nel caricare load file Ascoli atmosphere non c'è niente che simpatico umorista questa cosa non mi piace ragazzi vabbè comunque al di là scopriremo il perché di questo problemone secondo me sapete perché perché qui aprino una nuova finestra no e di t e di x mancano gli di x che mi sarà successo eeeh scopriremo successivamente cosa mi è successo fatto sta che ve la racconto a voce a questo punto nella cartella atmosphere trovate dati importantissimi contenenti informazioni del temperatura dell'aria eeeh e dati della temperatura scusate della conformazione del fluido quindi del flussi del vento eeeh non trovate però il pmv il pmv va calcolato a parte vi devo dire adesso il pmv funzionerà perché in biomet vi faccio vedere io ho un file edx lo posso calcolare lo posso aprire sarà un file riferito alle 10 di mattina non non ha tutto quanto il il percorso di calcolo che ho avuto però sarà un diciamo un file valido e lo vediamo qua estraendo la mappa 2d scusate mi sono scordato di scrivere pmv qua otterrò isoplete simile a queste adesso scopriamo che cosa ho fatto velocemente quale operazione ho compiuto rapidamente mi fa male il fatto di non avere in realtà i dati dell'atmosphere scopriremo insieme come dopo ma intanto ve lo dico che ci sono rimasto male perché non posso caricare appunto i vettori del vento e vedere le famose freccette che mi fanno capire come si sta muovendo il fluido vabbè per ora niente male ve lo dico a voce poi scopriamo insieme cosa è successo innanzitutto quando io vado a caricare una mappa che attualmente voi non avete il pmv ma lo dobbiamo calcolare separatamente quando noi andiamo a calcolare una mappa dobbiamo essenzialmente caricare il file all'interno della cartella che sia atmosphere che sia pmv che sia la qualunque una volta caricato troveremo qui un piccolo grafico che mi indica in grigio le ore non calcolate e colorate a seconda del genere di dato colorate gli orari che ho a disposizione in realtà quindi se avrò 12 ore calcolate mi basterà aprirne uno qualunque lui all'interno della stessa cartella va a ritrovare gli stessi i file che gli interessano e mi farà l'elenco di quelli disponibili in questo caso ho solo le 10 del mattino ci clicco due volte lui mi carica appunto tutti i dati possibili ma non vedo da subito tutto come abbiamo visto prima per vedere delle informazioni devo estrarre la mappa per estrarre questa mappa devo impostare all'interno del layer data il dato che voglio visualizzare posso con questo genere di dati posso valutare la wind speed piuttosto che il pmv piuttosto che il ppd piuttosto che una serie di altri fattori adesso per esempio carico il ppd giusto per capire cosa succede al caricare di una nuova mappa questa estraendola semplicemente in 2d mi va a caricare un'informazione diversa qui sullo sfondo ma questa informazione innanzitutto quando se non avessimo toccato niente di default avremmo visto questo avremmo visto questo perché questo terreno è molto alto e io gli chiedo di fare un taglio una sezione a questa altezza 3 metri ora in questo file particolare adesso ve lo faccio vedere perché è importante a questo punto in questo file particolare 3 metri individuano una porzione di modello praticamente costituita da terreno quindi non dove stanno gli edifici andiamola a vedere con Spaces che cosa state vedendo faccio partire il progetto qua Ascoli Ascoli 3 andiamo indietro con lo zoom andiamo su 3d model accendiamo anche il dem ecco qua cosa c'è a 3 metri da terra in orizzontale terreno quindi non potremo vedere nulla e allora che altezza mi devo mettere per tagliare mi devo mettere un'altezza precisa cioè devo sapere devo fare diverse fette a tutte le altezze per fortuna no per fortuna nostra hanno inserito l'opzione follow terrain che altro non fa che fare una sezione a 3 metri seguendo il terreno però quindi a 3 metri da un eventuale dem questa configurazione appunto mi fa capire che con un semplice taglio ottengo un'informazione che è spalmata sopra il mio sopra la mia sopra il mio terreno diciamo e tagliata a 3 metri di quota rispetto a questo molto utile perché rapidamente ottengo ottengo le informazioni necessarie ma io posso fare solo isoplete posso estrarre solo mappe orizzontali assolutamente no guardate qui lateralmente c'è una sorta di grafico stile battaglia navale su cui posso ho l'informazione del della x e della y non avevo l'informazione della z che comunque posso variare a 3 4 con la k3 4 che mi va a corrispondere a 3 6 9 27 metri e così via lateralmente ho quindi un'informazione in metri di x e di y che posso sfruttare per eventuali sezioni a una certa altezza per esempio voglio sezionare in questa maniera qui il modello sull'asse yz quindi cerco yz una sezione diciamo orizzontale sull'asse yz all'altezza 490 quindi scorro il mio valore i che una volta si chiamava k sull'altro asse qui si chiama i fino a incontrare circa 480 un po' di pazienza 420 perdonatemi 480 420 diciamo 465 mi piace estraggo e ottengo una sezione tolgo leggermente questo qui dalle scatole questa sezione tra l'altro lateralmente abbiamo anche una leggenda da poter da poter sfruttare è appunto utile per farmi capire cosa succede anche in alzato in quel punto ovviamente possiamo fare sezioni anche nell'altro verso ora una cosa mi piace mi piace farvi vedere noi architetti siamo abituati a vedere una sezione che va anche in profondità quindi spero che voi tutti quando facciate una sezione non vi dimentichiate di quello che c'è in profondità con EnvyMet invece no con EnvyMet la sezione è diciamo ferma a quel punto là ok non ve la faccio vedere velocemente poi vi metto un'immagine magari su Drive su ve la pubblico per farvi capire cosa intendevo in ogni caso aiutatemi anche voi a capirla questa cosa quello che vediamo adesso è esattamente dove passa la sezione né quello che c'è prima né quello che c'è dopo quindi eventuali oggetti in profondità noi ce li siamo persi questa cosa magari è meglio spiegabile quando estraiamo in 3D la mappa per farlo andiamo su 3D scusatemi no non dobbiamo andare su 3D dobbiamo andare su 3D map qui da questa parte e caricare uno qualunque dei dati a nostra disposizione e mettere extract 3D ovviamente a che posizione dobbiamo estrarre il 3D non lo dobbiamo sapere non lo possiamo sapere in questo momento e le informazioni per spostarci ancora una volta è valido il control ma lo zoom non funziona dobbiamo usare il cursore che compare andando qui allora non vedo nulla non vedo nulla e devo andare ad accendere il layer adatto che si chiama data layer 3D setting come si accendono lateralmente questi questi layer con il tasto destro sopra questo puntino questo puntino rosso fino a farlo diventare verde se sono felice se sono fortunato eccolo qua con un po' di pazienza esco fuori mi allontano di tanto ecco da da questo e vado a valutare ecco vado a valutare cosa sta succedendo in questo momento io vedo un grosso cubo colorato contenente solo l'informazione laterale quindi come vedete non è trasparente ed è per questo che anche nella sezione che vedevamo prima non vedevamo informazioni trasparenti posso gestire la quantità di modello visibile quindi posso cercare di creare una sezione verticale piuttosto che orizzontale anche in 3D andando a modificare a modificare i valori in quest'altra scheda dove in realtà posso gestire tutti quanti i valori possibili per la visualizzazione comprese le leggende magari nella prossima volta approfondiremo anche questo però andiamo a vedere da subito come fare una sezione come affettare il modello a diverse a diversi range di visualizzazione clicchiamo non col tasto destro che me lo spegnerebbe ma col tasto sinistro clicchiamo sul data layer 3D setting scendiamo nella parte in basso e valutiamo qui di poter tagliuzzare il modello per farlo per farlo dobbiamo anche aggiungere una spunta su filter by location e vediamo che succede al modificare i valori di questa griglia vediamo che io creo spaccati prospettici diciamo così a diverse sezioni quindi mi può essere utile questo per capire dove voglio dove sto guardando effettivamente il mio modello su un'asse piuttosto che sull'altro ecco però è di qua piuttosto che in altezza ovviamente qui non c'è l'opzione seguo il terreno ma è un affettare piatto del modello vi dico velocemente per quanto riguarda i vettori appunto laddove voi avete fatto il calcolo dovete inserirli non qui scrivendo with speed meter in metri al secondo altrimenti abbiamo vediamoli in 2D che forse è più chiaro in 2D dall'alto abbiamo una mappa delle velocità dei venti 66 metri è troppo diciamo così a zero estraiamo il 2D una mappa delle velocità del vento ma non sappiamo la direzione quindi non sappiamo se abbiamo potuto convogliare dei flussi in un punto piuttosto che in un altro perché il dato che ci manca è il dato del vettore che con il dato appena caricato non è presente dovremmo caricare atmosphere vi prego di fare voi questa prova visto che non faremo mai in tempo laddove quindi avete a disposizione questo dato altro non fa altro non vi servirà che accendere lateralmente il dato del vector adesso io però bonariamente concedetemelo con caricherò un dato sbagliato che è questo e riestrarrò vedrò comparire delle frecce che non sono però per carità quelle giuste quindi non prendetela per giusto per capire il procedimento quale dovrà essere effettuo uno zoom che qui si fa con questo slider laterale e vedrò quindi comparire queste frecce là sopra l'opzione del colore quando noi abbiamo a disposizione un atmosphere in realtà possiamo caricare quindi il dato del comfort che io ho già caricato questo dato del comfort in particolare possiamo vedere il PMV estraiamolo di nuovo ignorando giustamente la conformazione delle frecce va a indicarmi come già vi è stato spiegato dalla professoressa lo stato di comfort in quel punto in quell'ora da quel tipo di persone quindi maschio femmine bambino vecchietto che sta correndo che sta camminando che sta seduto a fare la pennichella poi lo decidiamo come anzi lo dovrete decidere prima di vederlo perché una volta terminato il running di 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 in realtà non avete l'informazione del PMV avete solo le informazioni dell'atmosphere piuttosto che altro ma dalle informazioni dell'atmosphere possiamo ricavare il PMV ora non so se mi sarà possibile visto che apparentemente non ho dei dati dell'atmosphere validi cosa che vi chiedo scusa sinceramente perché pensavo di averlo preparato apposta per voi se adesso valuto velocemente se non ci dovessi riuscire ci aggiorniamo la prossima volta visto che ho capito che la professoressa pure la prossima volta mi darà a disposizione un po' di tempo in ogni caso voi siete a questo punto autosufficienti per creare anche il diciamo per avere degli output se non altro in termini di temperatura una volta quindi fatto il running voi non dovete caricare come ho fatto io all'interno della cartella biomet ma dovete caricare all'interno della cartella atmosphere dove sarete più fortunati di me troverete dei dati li caricherete e su le impostazioni di data andrete a impostare air temperature piuttosto che altri dati e li valuteremo insieme sezionando il modello alle varie scale ora velocemente vado a fare quella ricerca di cui vi parlavo altrimenti se non è possibile la finiamo qui per questa volta allora andiamo a caricare l'headquarter di Envimet per l'ennesima volta faccio partire biomet su biomet gli dico guarda i file stanno nella cartella c Envimet project ascoli atmosphere ecco è vuoto va bene come non detto rimango a disposizione una mezz'oretta come l'altra volta per eventuali problemi eventuali domande cerchiamo di risolvere tutti i dubbi che sono sorti nel frattempo la prossima volta vedremo anche come creare il PMV per ora comunque ci accontentiamo di capire se fa caldo o se fa freddo che già poco non è e di quanto è veloce il vento anche quella è un'informazione che avete e che direzioni ha preso eventualmente quindi come cercheremo di valutare insieme quali strategie attuare per modificare il fluido ok alla prossima grazie grazie